Il sindaco, vedete, non è quello che comandano in una città. Io sto in contatto in questi giorni, le scuole, i ragazzi, e quando chiedo per voi chi è il sindaco, la risposta è chi comanda. No, non è chi comanda. Come non è neanche il comandante che prende niente. Voglio dire, siamo persone che sono azionate. E tutti abbiamo la sua. E il nostro solo, credo, deve essere fino in fondo, quello che viene venuto nella città, che rispetti questi pesanti. Oggi festeggiamo San Michele, ma non a caso è accostato anche il nostro peggio a San Vincenzo. Ebbene, San Michele testimonia che cosa? La vittoria sul mare. E quindi la giustizia. Ecco, noi vogliamo una città giusta. Una città dove bevano il centro della rivoluzione. E però poi abbiamo il nostro Santo Vincenzo, il santo della carità. E noi vogliamo una città che sia solidale, una città dove ci si rispetti, ci si voglia bene. In questi giorni ho incontrato tante persone. Ripeto, alcune erano dalla mia parte, alcune non mi hanno. Però tutte mi hanno sorriso con le occhi. E questa è la cosa più bella. E oggi ancora vedo tante persone che sorridono con le occhi. Perché credo che abbiano la speranza, la voglia di costruire qualcosa per la nostra amata di giustizia. Grazie. 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 Grazie.